La provincia non ha fatto nulla per l'Ipsia Marino di Teramo. Dopo la protesta di docenti e studenti dell'istituto professionale, senza scuola, a cinque anni dal sisma, chiusa per inagibilità, è costretti a dividere spazi e aule con altri istituti come Lidia Alessandrini, il liceo Einstein e il liceo Milli, e la risposta della provincia, affidata al comunicato stampa del consigliere delegato Luca Frangioni, è la volta del gruppo di opposizione La Casa dei Comuni, intervenire sulla vicenda con un duro atto d'accusa nei confronti dell'ente di Via Milli. Tra i numerosi motivi per cui non abbiamo votato l'attuale bilancio di previsione, c'è anche la vicenda legata all'Ipsia Marino, dichiarano infatti i consiglieri provinciali Mauro Scarpantonio, Graziano Ciapanna, Graziella Cordone e Luca Lattanzi. Dopo il finanziamento accordato dal Ministero dell'Economia nel 2019 e la convenzione firmata con la Regione nel 2020, la provincia inserì l'opera nel documento unico di programmazione 2020-22 e divise l'intervento su due annualità. Ma nel frattempo, anche alla luce di due emendamenti dell'opposizione respinti dalla maggioranza, l'intervento sull'Ipsia Marino sembra essere scomparso anche dal DUP. Dalla richiesta di finanziamento ad oggi non è stato fatto un bel niente, affondano Scarpantonio, Ciapanna, Cordone e Lattanzi. Che chiosano sulla vicenda? Ai docenti e agli studenti che chiedevano a Frangioni di vedere il progetto, il consigliere non può dare risposta perché non ha prodotto nemmeno un foglietto A4 di progetto. Sul tema dell'edilizia scolastica e delle difficoltà legate alla ricostruzione post-sisma degli istituti, la provincia ha convocato una conferenza stampa per la giornata di venerdì.